Uè, non fare il pollo! Da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio nuovo codice CREATOR. Clicca in basso a destra sul tasto supporta un creatore ed inserisci XIUDERONE. DAIE! Uè, bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video! Io sono XIUDER e ragazzi, mamma mia, avrei valanghe e valanghe di cose di cui parlarvi per quello che sta per succedere nei nuovi giorni che arriveranno in questa season numero 8. Siamo arrivati già alla settimana numero 3. Incredibile ragazzi, già tre settimane volate e gli argomenti da trattare sono sempre più caldi. Nel video di oggi ragazzi parleremo insieme ai nostri amici del gruppo Telegram di Fortnite Italy. Link in descrizione, andate a dargli una bella occhiata della modalità fuga. Alcuni di voi probabilmente non l'hanno mai provata. Arrivò nella season 4 l'estate scorsa e fu veramente molto molto divertente. In questa riproposizione della modalità fuga ci saranno un bel po' di cose nuove. Ne parleremo in questo video. Parleremo ovviamente anche delle sfide della settimana numero 3. Ma non dimenticate che ci saranno durante la giornata di oggi altri video con le soluzioni alle sfide che escono alle 15. E poi ragazzi, porco modo, fa 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 il nuovo elicottero. Qual era il suono dell'elicottero? Insomma ragazzi, c'è un collegamento di questo elicottero con qualcosa che già abbiamo visto. Intanto vi ringrazio di cuore per utilizzare il mio codice creator xyuderone quando shoppate di prepotenza. Mi raccomando eh raga taggatemi nelle storie di Instagram che io vi ringrazio. Non dimenticate di iscrivervi al canale e soprattutto di attivare la campanella per non perdere nessuna notifica sui miei video e sulle mie live. Ma prima ragazzi, dai dai, la domandina raga ve la devo fare, la domandina ed è una domanda molto particolare. Qual è il tuo veicolo preferito? Dai io sono curioso di sapere ragazzi le vostre cose. Qua sotto nei commenti ditemi qual è il vostro veicolo preferito in assoluto. Non necessariamente tra questi tre. A me personalmente piace tantissimo la girosfera. Ho imparato ad usarla, ho chillato delle persone con la girosfera ed è veramente super OP. Finché non lo anerfano rimane il mio veicolo preferito. Ditemi il vostro. Ma quindi, ciao a Ciolemande e bando alle ciance. Andiamo subito subito ragazzi sbadabam a parlare della notizia più calda di queste ultime ore. E' stato scoperto nella parte alta a destra della mappa, indicativamente vicino a, nella giungla parliamo ovviamente, proprio nella parte più in alto dove ci sono quelle piccole chiazze, dove ci sono i due geyser. Ok, là vicino ragazzi c'è un elicottero e Porco Giuda è arrivato dal nulla. E' una cosa che ha lasciato un pochettino di scalpore tra la community di Reddit, di YouTube e anche a me personalmente. Perché che cavolo c'entra adesso questo elicottero? Allora, ci sta sicuramente collegare, associare l'esplorazione della ipotetica giungla all'elicottero. Non ha senso che sia arrivato adesso, quindi è molto probabile che questo elicottero possa diventare parte integrante della storyline di questa season numero 8. Tra l'altro per i vecchioni, dai l'abbiamo già visto questo elicottero raga, ve lo ricordate dove erano? Dai due secondi, non ve lo ricordate. Ragazzi, questo elicottero era già presente nella season numero 4, quando cadde il meteorite e distrusse, creando quindi la voragine al centro della mappa. Le opere di ricostruzione erano monitorate dalla società segreta che aveva sia gli elicotteri che i veicoli. Quindi vi ricordo, ragazzi, che ci fu la storia delle due società segrete, quella che gestiva tutto il discorso di ricostruzione e di omissione del meteorite con tutta la società segreta che poi ha creato AIM. Insomma, un disastro. Staremo a vedere, ragazzi, questo elicottero che cavolo di significato mi deve avere nei prossimi giorni della season. Ma andiamo avanti, ragazzi, e parliamo, eccola qua, della modalità fuga. Si chiama in inglese Hike Stakes. Una delle modalità più interessanti, sicuramente più particolari del nostro Fortnite. Come vi avevo anticipato, l'abbiamo vista un'unica volta in un periodo abbastanza lungo. Durò una settimana, dieci giorni e fu sponsorizzata tantissimo con i trailer. Fu la modalità che portò il rampino in-game. Oltre che la skin del Joker, quindi il Jolly con le quattro facce intercambiabili, skin leggendaria. Modalità fuga che conferma, viene confermata anche da Fortnite su Twitter. Ufficialmente, l'altro ieri, ci fanno vedere il diamante che è appunto il fulcro della modalità. Poi vi spiego velocemente come si gioca. I quattro assi delle carte che stanno a significare appunto i quattro tizi e i soldi. Perché è tutto basato sulle rapine, sui cash. Come si gioca? Veloce, veloce. Quattro squadre da quattro giocatori. Quindi un totale di 16 giocatori nella mappa. Ci sono i diamanti, che sono i lama praticamente, che vanno presi. Sono dei lama a forma, è un diamante a forma di lama. Questo diamante a forma di lama si trova in diverse cassaforti che cadono nella mappa e che ci vuole parecchio tempo ad aprire. Quindi la squadra, tre proteggono e uno apre la cassaforte. Quando quello che ha aperto la cassaforte ha preso il lama, innanzitutto più tieni il lama e più ti dà shield. Almeno era così la prima volta che abbiamo giocato. Puoi passarlo anche ai tuoi compagni di squadra, così intanto vi shieldate. Chi porta il lama corre più piano degli altri. L'obiettivo è portare tutta la squadra su un camion. Ce ne sono più di uno, quattro camion ci sono sparsi in giro, tre camion ci sono sparsi in giro. Portare tutta la squadra sul camion, caricare il lama e avete vinto la partita ragazzi. Ovviamente squadra che vince per prima, per seconda e per terza. Modalità che non vedo l'ora che chi non ha provato provi. Modalità che invece con questo nuovo riaggiornamento porta con sé quattro nuove skin per le armi. Ovviamente non era difficile capire che sono skin dedicate ai semi delle carte. Eccole qua ragazzi, cuori quadri, picche e fiori. Abbiamo anche un'immagine ragazzi che ci fa vedere molto più dettagliatamente come saranno le armi. Qua vediamo ad esempio quella di quadri con la nuova camion. Non penso ragazzi che verranno vendute separatamente. Penso che sarà il primo pacchetto delle skin per le armi messo in vendita probabilmente nello shop. Ma insieme alla modalità fuga ragazzi arrivano anche le sfide della modalità fuga. Allora innanzitutto GG perché otterrete secondo me uno dei picconi più belli del gioco. Che è il piede di porco. Lo si ottiene subito. Noi vecchi che l'abbiamo fatta ottenemmo anche la schermata di caricamento, lo spray delle carte e la scia. Questa volta invece inseriscono anche le tre varianti del lama. Quindi il gioiello che si potrà utilizzare come backpack colore verde, rosso e bianco. Abbiamo anche un'immagine direttamente che ci arriva dal Giappone ragazzi dove si possono già vedere le sfide in completamento. Non sappiamo come faccia questa persona ad avere queste immagini ma ragazzi eccolo lì come si potrà vedere il lama sulla schiena. Voglio chiudere brevemente parlando anche di una delle sfide della settimana 3. Ovviamente vi dirò poi nel dettaglio il video. Una delle sfide ci chiederà di trovare il punto esatto segnato dalla lente di ingrandimento in una schermata di caricamento. Eccola qua ragazzi. Questa è la schermata di caricamento di cui si parla e si chiederà nella mappa, nella challenge. Vi creerò un video che andrà su indicativamente verso la tarda mattinata di oggi. In modo che sappiate dove sarà il punto preciso per cercare quello che dovremmo cercare. Beh ragazzi io avrei veramente altri milioni di leaks da dirvi. Ma piano piano, giorno per giorno scoprirete tutto. Grazie per aver guardato questo video. Iscrivetevi al canale Codice Creator Xiodarone. Noi ci vediamo in live alle 13. Ciao! Grazie per aver guardato il video.